musica e poi in quest'isola chi comprerebbe da un mercante non si sa ma mica ci sono dei ganados qui no, non vedo nessuno più avanti evidentemente ti consiglio di provare assolutamente Resident Evil 4 per cellulare Resident Evil per cellulare è bellissimo quello per Nokia è bellissimo difetto ma va a cagare è bellissimo ma che catena stavolta ho fatto finire una bomba fra le scale ovviamente anche stavolta ero sarcastico è un gioco fatalmente schifo che persino per cellulare è meglio cioè che ne so Snake hai presente Snake? sì che bello come sta andando? bene bene, ora torniamo da Ashley e salviamo Ashley salviamo probabilmente Michio come ha fatto a non morire di paura non è ancora morto di paura Leon, ehi Leon Leon, perché hai fatto così tardi? Leon, alle 5 volevo farmi la ceretta mi sono cresciute un centimetro di pelle e lei non la lascia da persone? yes yes, devi dare ragione a me qua arriva dal vento una lettera di Ada un vento fa per a il plano via col vento, via col vento wait che schifo butta una granata ma tra un po' c'è il pezzo in cui esci di guidare un camion che come dove l'abbia imparato non so in America tutti sono in America ogni studentessa di 19 anni americana viva Camion ma chi te l'ha detto? soprattutto in America a scuola le fanno andare soprattutto le figlie dei presidenti dai no questa parte è difficilissima devo tenere tutti a distanza con lo striker e ammazzarli a granate perché sono decine soprattutto in modalità difficile sarà davvero dura e soprattutto se ho finito le pallottole di pistola dovrò andare avanti a sbadilate soprattutto se escono plaghe ogni due o tre secondo me ce ne fai il primo punto vabbè giocando con tutte queste precauzioni cioè precauzioni in questo senso qui possibili soldi ho speso molto per la tactical vest e per potenziare e dare l'esclusiva alla red nova comunque ora ho 60.000 pesetas ne aspetto ne aspetto di potenziare ancora la broken butterfly più che altro perché mi servirà per i boss però avendo la tactical vest non ho più il problema delle cure soprattutto perché sto giocando meglio adesso mi sto facendo colpire di meno e bla 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 anche perché qua ci sono molti più nemici che o schivi o muori quindi sopravvivendo è chiaro che non ti fai colpire molte volte mo Ashley e Leon si buttano in questa specie di fogna puzza poi si buttano giù magari c'è un palo sotto e muovono trafitti no senza paura ma va a cagare cos'è quella cosa si chiama rigenerator e se ne muovi le tue chiappette mi direi di scappare ma che merda di cane ho fatto non posso dire tutte queste parolacce sono una persona con dignità e onore ma porca miseria come il professore di mio fratello calma stavo in seconda e è venuto a fare la supplenza a noi allora diceva no le classi mi rispettano fanno sempre silenzio poi quando siamo andati in seconda ma che è sto casino ma porca miseria e cominciò a sclerare durante la lezione e meno male che era lui ad avere tanta classe ma c'è un problema che metto un rapporto ma che è il rapporto di frigo e spingi spingi stai partendo a tu follow me stai partendo Ashley sta partendo ma non è Leon il padre è stato a zara è stato a zara e figlio cosa sarà? un nano giallo un nano giallo parte sin sarà un nano giallo è butto stuposo butto butto ok possiamo entrare qua non c'è un tesoro appeso al soffitto io comunque ho trovato tutte le erbe gialle ho la salute e ho riempito tutta la barra massima sei messo benissimo qui però Ashley non l'ho proprio potenziata ho potenziato solo le ove l'erba stupida ma tanto lei col traffico di organi se le può permettere l'ero ho più munizioni di shot e anche di pistola perché la pistola è così potente che la uso sempre quindi c'è il problema questo è il destino quindi devi far fuori col piccine in modo aggressivo e brutale giallo open I need a macchina da scrivere perché non salgo da mezz'ora look there's a gate here Leon, hey Leon Leon cos'è questa? c'è scritto autodistruzione lo devo premere eh Leon? Leon è caduto nella lava lo stronzo è morto è la lava quella vieni con me stupida ma quando la mia classe mi rispetta io già lo sapevo che non è vero qualsiasi plago uscirà dall'adventro già so che sarà una cottura di palli ah volevo beccarli entrambi con lo stesso proiettile non ce l'ho fatta no lasciascile cretino lasciascile 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 brutto gay lasciascile io ti ammazzo wow me ne sono andato è la prima volta nel gioco e me ne vado senza ammazzare tutti ma perché non ce la facevo è perché stavano per rapirmi Ashley è l'unica volta in cui me ne sono andato da vigliacco senza ammazzare tutti vabbò mi scocciavo completando l'area c'è una macchina a scrivere da qualche parte? no ma penso che non manchi molto alla fine del capitolo ah ci sono i due ma va a cagare ma no poverino non è vero io ho tanti amici ma non che no no non mi mangiare piuttosto ho detto non mi mangiare io ho detto deve ascoltarmi sei educato ancora mi hai rotto le palle sto troppo vicino a lui per questo seguimi ho ucciso il regenerator vicino a Ashley Ashley tutta schifata si è sporcata tutta la maglietta belle sta così deve fare la lavatrice deve imparare a farsela la lavatrice per la schiavetta alla casa bianca che le fa tutto seguimi anche se è morta da tempo ma chi è la madre non credo che sia figlia di Roosevelt quanti anni ha? 80 oh io pensavo che Ashley fosse la figlia di Roosevelt eh sì lo sai che ha più figli legittimi Bill Clinton che che il sindaco Quimby dei Simpson ma non c'era troppo simpatici voi due insieme veramente e non ce le scriviamo nel battito ma non ce le scriviamo nel battito cosa? di nuovo niente però uffa vorrei acquistare io no la killer 7 no la magna sarebbe la seconda magna ma non mi conviene ho la broken butterfly che sto potenzialmente aumentiamo potenza e velocità di ricarica no vabbè la velocità di ricarica che me ne faccio alla fine non fa niente basta ricaricare lontano dai combattimenti altrimenti sei morto e la capacità dello striker il capitolo no non si conclude ancora c'è la parte del trattore ma è lunga quindi concludo qua e per questa parte qui dal vostro lighting honk e di festa alla prossima grazie a tutti